Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella quarta parte dai party di Mario Kart DS io sono come sempre poco al 64 oggi offre un tempo con piccia male in cuore il trofeo banana ok e il primo la pista è Pianora Ciambella una pista direttamente dallo SNES okidoki pitch ha una maneggevolezza di merda una figa è pitch ho prodotto ok come vedete è una pista abbastanza semplice quindi non c'è nulla di tanto stravagante un po' come le altre piste ok comunque è scomodissimo giocare con ehm con il DS appoggiato sul tavolo sulla scrivania perché non si ha la solita comodità che sia con che sia quando si giocava normalmente vabbè mi accontenterò ok sono riuscita anzi è riuscito ehm ad arrivare secondo e adesso oh pitch ha la quale ah no niente ha sempre avuto la quale di quello ehm passiamo alla seconda pista davvero il circuito è nevato ehm che ricordi d'altro non ve l'ho detto ma il trofeo banana è stato il mio primo trofeo alla quale ho giocato e Mario Kart ehm questo Mario Kart Mario Kart DS è stato il mio primo gioco a cui ho mai giocato quindi ho un valore piuttosto affettivo per inquadrare bene scusate se alcuna volta faccio dei fuori pista ma perché per inquadrare bene il il DS ho bisogno di vedere su lo schermo quindi non riesco tanto a